Siamo dinanzi al Tribunale di Lanciano, uno dei tribunali cosiddetti minori, uno dei quattro tribunali cosiddetti minori destinati alla chiusura. Ci mettiamo ancora a un punto interrogativo. Silvana Vastagli è Presidente degli Ordini degli Avvocati del Tribunale di Lanciano che ha ricordato, sui social, che manca un anno. Da un punto di vista lavorativo ne mancano 270 perché a questi giorni ci dobbiamo togliere i sabati, le domeniche, Natale, Pasqua, Ferragosto. Dove ovviamente nessuno lavora e quindi se non si lavora per tempo e nei prossimi 30, massimo 60 giorni, la chiusura non è che è certa, è più che certa. Cosa si può fare? Noi l'abbiamo spiegato ai vari parlamentari, tutti, che si stanno impegnando, perché non possiamo dire il contrario, per trovare delle soluzioni che possono essere o di proroga o di legge speciale. Cosa si rischia? Il rischio, oltre il rischio che noi abbiamo già lamentato nel corso degli anni, rischio economico, rischio sociale, ma è il rischio maggiore, è il disservizio del servizio giustizia nei confronti dei cittadini che aspettano l'esito di un giudizio. Io vorrei semplicemente far riflettere questi. Sono quattro uffici giudiziari che oggi funzionano e funzionano tutti. Bene, male, lo decide la gente, i rapporti ministeriali comunque funzionano. Dal 14 settembre del 2022 questi quattro uffici giudiziari saranno accorpati avanti a un tribunale provinciale. Ma questo accorpamento non significa solo trasloco degli scatoloni, significa riorganizzare il lavoro. E non ci possiamo ricordare la notte del 13 settembre, prima della chiusura a mezzanotte, bene, si chiude, domani trasferiamo e riapriamo gli scatoloni a Chieti o all'Aquila. Il cittadino ha bisogno dei servizi essenziali. Tra l'altro qui è il tribunale procura, ricordiamo. Questo è il tribunale procura con quattro uffici notifiche che devono funzionare anche per il giudice di pace che arresta. Allora, il giudice di pace di Vasto, di Lanciano, di Sulmoni e di Avanzano resterà, ma senza una procura e senza un ufficio a notifiche. Quindi per notificare un atto del giudice di pace di Vasto o di Lanciano io devo arrivare a Chieti. E non mi si venga a dire c'è la notifica telematica, perché non esiste l'obbligo della PEC per il semplice cittadino. E al ministero al quale ci siamo rivolti non ancora sanno, a distanza di 11 mesi, non ancora sanno come rielaborare i programmi. Quindi, signori cittadini, se le cause dureranno altri anni, non ve la prendete con gli avvocati.